E rieccoci qua, amiche e amici di Rossini TV, anche questa sera siamo con voi, anche questa sera siamo con Cosmo Life per un nuovo appuntamento di questo ciclo di trasmissioni dedicate al benessere. Questa sera parleremo delle solette di Cosmo Life e ancora una volta in studio con noi ci sono Tiziana Franca. Buonasera a tutti. E Lidano Casoli. Buonasera. Anche questa sera sono nei nostri studi, vedete, affronteremo un argomento che io vi introdurrò leggendo semplicemente il demplian illustrativo di quello che queste solette possono fare per il benessere del nostro piede, ma non solo perché per esempio il punto 1 è migliorare la circolazione e donare leggerezza e freschezza alle gambe. Poi queste solette ci permettono di avere più equilibrio e stabilità e quindi di appoggiare meglio il piede. Ovviamente equilibrio e stabilità che si propagano poi a tutta la fascia muscolare. La stabilità migliora la contrazione e il rilassamento delle stesse fasce muscolari con conseguente aumento della prestazione fisica. Una migliore prestazione fisica significa avere maggiore forza e di conseguenza maggior resistenza allo sforzo e una maggior resistenza ci consente di avere gambe più leggere e rilassate evitando anche i classici crampi e dolori notturni. Quindi è davvero uno strumento del quale ogni sportivo dovrebbe far tesoro per affrontare la sua disciplina. Come nascono Lidano queste solette? Da dove viene l'idea di creare questo strumento così importante? Io non credo per gli sportivi e basta ma per tutti. Per tutti. Le solette nascono diciamo dalla nostra esperienza ventennale nel campo energetico vibrazionale umano. La nostra conoscenza ci ha permesso di creare queste solette che hanno queste tra virgolette peculiarità, capacità. Tutto quello che hai elencato finora è quello che in realtà le solette fanno e lavorano tantissimo proprio sull'aspetto del benessere che nasce dai piedi perché non dimentichiamoci mai che il nostro organismo per tutta la vita appoggia sui piedi. Appoggia sui piedi quindi dare un aiuto ai piedi per far sì che il nostro organismo appoggi meglio è sicuramente importantissimo. Poi possiamo anche dire che l'equilibrio parte dai piedi perché se non abbiamo equilibrio nei piedi non abbiamo stabilità nel corpo. Perfetto. Consideriamo anche che ci sono tutte le zone riflesse nei piedi dove noi andiamo a portare energeticamente un continuo flusso energetico e questo non fa altro che andare a lavorare un po' su tutto il nostro corpo per mantenere in equilibrio tutto il corpo anche donandoci la stabilità ci danno anche più forza fisica perché esattamente questo che fanno è una cosa molto semplice oltre agli sportivi tutti perché a fine giornata tutti arriviamo a casa un pochino più stanchi ed esausti. Una cosa molto consigliabile non è soltanto per le persone che camminano che stanno in piedi ma anche per chi è seduto in una scrivania perché comunque il flusso energetico continua a lavorare anche restando seduti. Certo e questo è importantissimo le vibrazioni non è che si interrompono cambiano magari a seconda dell'attività che si fa ovviamente però ci sono. Io vedo poi qui sempre nel volantino una cosa che mi ha incuriosito ma so già che non avremo una risposta certa. Di cosa si tratta? Che cos'è la tecnologia K9? E questo è il nostro noir della ditta per dare queste frequenze a queste solette e ad altri strumenti e è una cosa nostra è il nostro punto fermo il nostro punto forte che sicuramente non sveleremo così in televisione. televisione. È il vostro segreto chiaramente il segreto che poi porta a far sì che l'azione sia quella di cui abbiamo parlato. Lidano è molto interessante l'aspetto riguardante lo sport tanti sport che possono essere coinvolti ovviamente il primo fra tutti che è quello che facciamo tutti noi quotidianamente magari senza rendercene conto il camminare. Il camminare ma anche lo stare seduti chi è dietro una scrivania ha bisogno che la circolazione sia sempre attiva, ha bisogno di gambe leggere, fresche, di miglioramento nella postura perché poi arriva a darti anche questo. Di conseguenza questo è molto importante. E se dovessimo dire uno sport elettivo al di là del camminare nelle quali queste solette dovrebbero sempre essere utilizzate sicuramente ce ne sarà più di uno, non solo uno sport. Ma diciamo tutti gli sport dove si usano i piedi in qualche modo. Pensate al calcio. un giocatore che fa una partita dopo la partita magari ha una stanchezza invece con le solette non si è più stanchi. Fai due ore di allenamento non hai più la stanchezza solita e hai più equilibrio, più stabilità e questo vuol dire miglior controllo di palla, miglior appoggio del piede, cioè migliora tutto. Poi pensiamo un attimino al maratoneta della domenica, quello che va a farsi la passeggiata, che va a fare la passeggiata al mare e questo qua gli si amplifica la sua prestazione ma soprattutto non ha più stanchezza. Allora considerate che molto spesso ci è capitato di vedere, facciamo questa battuta lì Dano, le foto dei piedi di giocatori come per esempio Ibrahimo Vicciottotti, piedi totalmente tumefatti. Crediamo che le solette sicuramente avrebbero un aiuto fondamentale per quello che riguarda l'appoggio del piede. Non aspettiamoci anche chi altro magari gioca a calcio di non avere le more se arriva un calcione dal terzino che dà una botta nella caviglia, su quello c'è poco da fare. Su quello c'è poco da fare però c'è un recupero. Ecco, vedi? Sì, questo è già stato notato. C'è un recupero diciamo nei danni dovuti da incidente del lavoro, tra virgolette, perché siamo col calcio, una entrata un po' troppo invasiva e crea disagio e con questo... Esatto, anche perché verrebbe da dire che quando si crea una distorsione o una gran botta dopo un calcione giocando a calcio, quello a tutti gli effetti è un incidente sul lavoro. Ha detto perfettamente la definizione. Poi dopo però io così scorrendo sempre il volantino credo che calcio, maratoneta, ma non solo. Sicuramente ci sono tantissime altre discipline che possono essere davvero interessate all'utilizzo di questo strumento. Assolutamente sì, da un tennista, da una pallavolo, ma anche altre cose, un salto in alto, cioè ci sono tantissimi sport che possiamo assolutamente... Perché allora queste energie, queste solette ci danno un'energia e una stabilità ma anche contemporaneamente leggerezza. Perciò nel momento in cui noi dobbiamo fare un'azione per il gioco comunque andiamo a sviluppare sicuramente stabilità e leggerezza contemporaneamente e questo ci porta sicuramente a ottimizzare al meglio quello che è il risultato per cui lo sportivo sta in quel momento giocando. Sta facendo la performance. Quindi anche per dimostrare l'effetto che hanno le solette poi sulla funzionalità fisiologica delle persone, sono stati fatti un paio di esperimenti, Lidano. Ce li puoi descrivere brevemente? Allora abbiamo fatto questi esperimenti per far vedere l'energia che sprigionano, che emanano queste solette, come agiscono sulla fisicità della persona. Praticamente cosa succede? Una persona abbastanza robusta diciamo, cercare di sollevarla con otto dita, quattro persone che non fanno altro che mettere queste due dita sotto le gambe o sotto le escelle di questa persona e cercare di sollevarla. Sicuramente sarà molto difficile sollevarla perché una persona che ti pesa cento chili è un pochettino un dilemma con otto dita. Noi abbiamo fatto, abbiamo inserito le solette nelle scarpe di questo signore e poi subito dopo abbiamo cercato di alzarlo e si solleva come un fuscello, perché l'energia va a lavorare talmente tanto che ti alleggerisce tutta la fisicità di questa persona. Poi è stato fatto un altro test che è quello del telefonino. Sappiamo che il telefono emana una frequenza che disturba la persona che lo usa. In questo caso avendo indossato le solette abbiamo notato sempre con un test muscolare, il test kinesiologico muscolare, che la persona non è più disturbata. Praticamente senza solette col telefonino perde forza, con le solette invece non è più disturbata, assolutamente forte, anzi è più forte di prima quando non aveva la soletta sotto i piedi. Le solette. Prima ha giustamente, Tiziana, ha toccato un argomento che secondo noi è fondamentale per capirne poi davvero il buono che possono portare. Abbiamo parlato di campi energetici nel piede, cioè il piede è una parte del nostro organismo importantissima, l'abbiamo detto, ci appoggiamo sopra per tutta la vita, ma ci sono dei punti particolarmente importanti perché sono loro che poi portano a tantissime, come possiamo dire, conseguenze nel momento in cui vengono stimolate. Esattamente sì, perché comunque è una stimolazione che mantiene un equilibrio sui nostri organi vitali ed è fondamentale perché comunque, siccome noi parliamo di energia e di frequenza in tutto ciò che facciamo come Cosmo Life, è giusto sapere che tutta l'energia che vibra nel nostro corpo, quanto è in armonia, riesce a mantenere migliore anche quelli che sono i nostri organi e di conseguenza principalmente partendo dai piedi dove ci sono tutti questi punti riflessi che vengono stimolati, mantiene la nostra stabilità, ma mantiene proprio la vitalità del nostro corpo che è essenziale. Al di là poi dell'aspetto delle solette, ovviamente queste vanno inserite in un contesto più ampio, crediamo che sia molto utile ogni volta utilizzare le calzature adatte. Beh sì, certo, se noi mettiamo una scarpa che non è adatta, la soletta fa sicuramente la sua parte perché migliora sicuramente, però se la scarpa non è adatta sappiamo che comunque se ci stringe o se non appoggiamo bene i piedi dentro la scarpa, poi la soletta lavora ma non può ottenere il risultato che hai in una scarpa sicuramente comoda. E per i dilettanti che avessero voglia di provare questa, chiamiamola tecnologia, questo prodotto, dove lo possano trovare Lidano? Ci sono dei punti dei rivenditori, lo trovano online, lo trovano presso di voi? Come è possibile procurarsi queste solette? No, allora si trovano online, si trovano, le possono ordinare oppure a Rio Salso è la nostra sede, anzi a tal proposito diciamo cerchiamo anche se qualcuno è interessato alla rivendita di questo prodotto. Quindi punti vendita che potrebbero essere davvero adatti a trasferire al grande pubblico un'opportunità come questa? Un'opportunità perché poi chi le prova non le lascia più e questo è stato dimostrato, è un anno che le stiamo vendendo e abbiamo visto cosa succede. Perfetto, quindi immaginatevi davvero che risultati ci possono essere con una piccola cosa, come uno immagina che si hanno delle solette che però effettivamente magari nel vero senso della parola possono cambiare tantissime cose. Grazie, anche questa sera è stato molto interessante parlare con voi. Grazie per questa opportunità di poter far conoscere i nostri strumenti, i nostri mezzi, le nostre solette perché tutti li possono utilizzare per stare meglio. Cosmo Life continua a fare la sua bellezza, la figura nel campo del benessere, è nel campo di questo approccio davvero olistico che fa riferimento a un aspetto così importante come quello delle vibrazioni. Sì, l'energia del nostro corpo noi non facciamo altro che amplificarla, è come una batteria che ti va a caricare continuamente da sotto i piedi e pervade il nostro corpo. Perciò nel benessere totale è questo che noi facciamo. Pensate che bella questa idea di questo benessere, di questa energia che parte dal basso e si radia in tutto il nostro organismo. Davvero molto bella. Grazie Lidano, grazie per averci dato questa immagine, ci vediamo la settimana prossima. Buona serata a tutti.